Si è svolta nel primo pomeriggio la seconda edizione del trofeo gruppo sportivo Alpini di Suovere di Schirola, tecnica classica. La gara di per sé poteva essere semplicemente bella, invece proprio la presenza di tantissimi principali interpreti del fondo, non soltanto di casa nostra, ha dato davvero lustro a questa seconda edizione. E infatti se andiamo a guardare l'ordine di arrivo, dopo aver visto la bellissima partenza dove anche i nostri Fabio Pasini e Giovanni Gullo si sono messi in mostra, dicevo se andiamo a guardare l'ordine di arrivo in ambito maschile troviamo niente po' di meno che il campione tre volte, il campione del mondo Dario Colonia che ha preceduto un davvero brillantissimo Roland Clara. Davvero bella e soprattutto l'arrivo, la gara dei due con Thomas Morigle che è arrivato terzo e che per poco non è riuscito proprio in volata ad insidiare il campione anche e campione olimpico Dario Colonia. In ambito femminile da segnalare la bella gara fra la Virginia De Martin che aveva vinto nella passata edizione e Veronica Cavalar ed è stata proprio quest'ultima Veronica Cavalar ad avere la meglio sfruttando un po' di dote fisica in più rispetto comunque a una bravissima De Martin che aveva guidato il gruppo e soprattutto la gara femminile per tantissimi chilometri. Erano sette e mezzo i chilometri del tracciato, tanta gente sul percorso a salutare questa splendida organizzazione dove ancora una volta Daniele Martinelli grazie alle sue conoscenze ha portato nomi illustri per quanto riguarda è vero lo Schirol ma soprattutto il fondo. Ricordo a tutti che ci sarà uno speciale mercoledì alle ore 18 e replica alle ore 23 e 30 circa sulle frequenze di Antenna 2 dedicato completamente appunto a questa seconda edizione dello Schirol di Sovereign.